L'ingrediente segreto delle sue pizze? Il cibo rubato dalle mense scolastiche e dagli ospedali. Nei guai un pizzaiolo insieme alla persona che gli ha venduto la merce. I carabinieri hanno controllato una nota pizzeria del centro di Karate. Il titolare, un 42enne turco residente a Erba, non è stato in grado di fornire ai militari dell'arma le ricevute d'acquisto di tutti i prodotti alimentari utilizzati, in particolare salumi, formaggi, tonno e olio. I carabinieri, già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di svariati furti di cibo commessi all'interno di scuole e strutture ospedaliere, hanno subito ipotizzato che quella pizzeria potesse essere il luogo dove il ladro rivendeva il suo bottino. A seguito degli approfondimenti del caso, i militari dell'arma hanno appurato che quella merce della quale il pizzaiolo non riusciva a giustificare la presenza nel suo esercizio, corrispondeva proprio a quella rubata nella scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Romagnosi di Karate e negli istituti clinici Zucchi alcuni giorni prima. I carabinieri hanno quindi sequestrato circa 20 kg di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio, 5 kg di formaggio e varie confezioni di prosciutto di Parma, bresaola e prosciutto cotto. I carabinieri sono riusciti a risalire anche a colui che aveva rivenduto la merce rubata, una 35enne caratese, di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. È stato denunciato, insieme al titolare della pizzeria, per ricettazione.